La Camera di Commercio di Taranto ha organizzato quest'oggi un workshop di presentazione delle funzioni che l'ente camerale svolge sul territorio e dei servizi a favore delle imprese con particolare attenzione a quelle di prossima o di recente costituzione, un modo per avvicinare l'ente pubblico alle aziende in fase di costruzione o appena avviate. Con i nostri esperti avviciniamo l'impresa a una serie di tematiche che sono fondamentali ai fini di una costruzione corretta della propria identità di impresa, dall'utilizzo dei dati statistico-economici per fare analisi di mercato, all'utilizzo dei servizi cassetto digitale, firma digitale, speed e elementi funzionali alla telematizzazione, certificato di origine online, libri digitali anziché libri fisici e in buona sostanza poi tutta l'attività connessa con anche la promozione di impresa. Fra le altre cose è ovviamente importantissimo tutto il percorso che anche nell'anno 2020 noi porteremo a buon fine con l'ICE nazionale per l'internazionalizzazione dell'impresa e tutti i corsi e tutti gli avvicinamenti alla digitalizzazione di imprese in termini lati e anche finalizzata all'utilizzo del digitale nelle proprie attività. Quindi è una sorta di cassetto funzionale a dare gli attrezzi all'impresa per poter migliorare la propria performance a livello territoriale.